La Regione deve risolvere l'emergenza rifiuti scoppiata nelle settimane scorse dopo l'annuncio degli amministratori giudiziari della discarica di Lentini dello stop al conferimento dei rifiuti per 150 comuni a causa della saturazione del sito di proprietà della Sicula Trasporti, la società della famiglia Leonardico, involta in una inchiesta antimafia della Procura di Catania. Sul tavolo del Presidente della Regione ci sarebbero tre soluzioni. La prima ipotesi è il trasferimento dei rifiuti in un paese straniero, ma sarebbe una scelta onerosa per i comuni siciliani. Il costo oscillerebbe intorno ai 430 euro a tonnellata. La seconda ipotesi è il trasferimento dei rifiuti in un termo valorizzatore in Emilia Romagna, ma i costi sarebbero simili per quelli previsti dalla soluzione estera. L'ultima ipotesi è quella di un ampliamento parziale e provvisorio della discarica di Lentini, ma il Sindaco Saverio Bosco è totalmente contrario. Ci opporremo, ha detto, all'ampliamento parziale, visto che abbiamo manifestato la nostra contrarietà al progetto originario che prevede un'estensione della discarica.